Prosegue la raccolta firme promossa dagli ambulanti di Piazza Manzù a Clusone per chiedere di non spostare il mercato in centro storico. Come sta andando la vostra iniziativa? Direi che la nostra iniziativa prosegue alla grande, sta andando molto bene, abbiamo raccolto circa 1050 firme, questo ci dà forza nel portare avanti quelle che sono le nostre problematiche e le nostre richieste. Devo dire che abbiamo un riscontro oggettivo non solo degli abitanti di Clusone, ma anche delle valli che comunque ci circondano e questo ci fa molto piacere. Ricordiamo perché siete contro lo spostamento del mercato in centro storico, almeno in questa fase. Allora, il centro storico è un discorso molto ampio, difficile da gestire, ne abbiamo parlato, ho avuto un incontro diretto anche col sindaco, riteniamo che ad oggi per le nostre attività non sia idoneo. Abbiamo degli automarket, abbiamo una gestione di mezzi completamente diversa da allora, diciamo, da quello poi per cui è nato il centro storico, quindi ci troviamo veramente in una difficoltà oggettiva. Riteniamo che riqualificare il centro storico alla carta sia una cosa bellissima, ma in pratica ribadiamo al fatto che probabilmente la riqualificazione deve ripartire dai negozi, dagli avvenimenti e poi il resto viene a susseguirsi. Spesso ci siamo trovati anche a discutere con i negozianti sullo svolgere comunque il nostro mercato in giorni di festa, abbiamo avuto parecchie discussioni. Capiamo che ad oggi il commercio è cambiato per tutti, capiamo le loro difficoltà, però riteniamo che pensare di cambiare quello che è oggi il centro storico di Clusone solo con un mercato del lunedì sia veramente poco credibile. Quale sarebbe, secondo voi, la soluzione da adottare per il mercato di Clusone? Allora, noi siamo compatti e andiamo avanti per i nostri diritti e riteniamo che oggi è giusto prendere in considerazione quello che siamo diventati delle imprese. Pensiamo che probabilmente in questi 13 anni sono stati fatti troppi spostamenti su questo mercato. Credo che per poter riqualificare questo mercato bisogna fare uno studio molto più importante di quello che è stato fatto fino ad oggi. Quindi andare poi a rivalutare quelli che sono gli spazi, quelli che sono le attività e prendere in mano il mercato di Clusone una volta per tutte in via definitiva. Ribadendo che ad oggi rimanere in piazzale Manzù fino all'inizio dei lavori per noi sarebbe la soluzione migliore. Grazie.